Lo dà con il tempo, senti che non passa il tempo Ieri dicevamo che Ben arrivato a tutti Ieri dicevamo che la vita spirituale si tesse giorno per giorno nelle situazioni più banali o anche tristi o dolorose C'è un grande rispetto di Dio per la realtà E con noi tante volte la realtà non la accettiamo O vorremmo cose diverse O vorremmo modificare la testa alle persone O vorremmo che gli avvenimenti fossero diversi da quelli che sono O sogniamo cose che non ci sono Ecco noi abbiamo tutta questa elaborazione di tutti i nostri desideri E quante volte per esempio rifiutiamo le situazioni Non accettiamo noi stessi Dio non fa così Dio accetta tutte le situazioni Tutte le persone Anche le cose più tragiche come la storia insegna Il Signore le permette Se ha dato la libertà ai Suoi figli Accetta le conseguenze della libertà Che poi sono terribili anche per gli altri Ecco Quante volte dicevamo anche un po' In maniera anche Possiamo dire anche un po' ironica Che nessuno di noi è arrivato a vent'anni senza carenze o traumi Non c'è una persona che abbia vissuto una vita Possiamo dire Equilibrata Nutrita Dal punto di vista umano Affettivo Intellettuale Ecco Vediamo anche i figli dei re Hanno problemi Quante volte i figli e i nipoti della regina I figli e i nipoti della regina Sono problematici Anzi Fanno molto guadagnare i giornalisti Perché poi fanno interviste costosissime Si lamentano di mille cose Ecco questo ci fa capire Che anche le famiglie A cui non dovrebbe mancare niente Di fatto manca qualche cosa Però Di fronte a questo quadro della vita Il Signore accetta la realtà E quello che ci chiede È di esercitarci A realizzare l'amore Nelle situazioni Anche tragico dolorose In cui ci troviamo Questo nella storia è successo Perché tante persone Per esempio nei primi Trecento anni del cristianesimo Come sapete Il cristianesimo viveva Possiamo dire Fuori legge E i cristiani erano passibili Di pena Di condanne Di morte Di martirio Però il Signore Faceva andare la storia così Ecco E chiedeva ai cristiani di allora Di essere testimoni Di un amore Più grande di quei problemi Ecco Tante volte Quindi il Signore Ci stupisce Perché noi ci dobbiamo Adattare a un modo Di ragionare Che è diverso dal nostro Noi avremmo Modificato Gli avvenimenti E invece Lui Modifica il nostro Modo di agire Cioè lo fa in modo Che il nostro Modo di amare Debba adeguarsi Alle situazioni Quindi c'è un estremo D'altronde è anche un po' logico Perché lui che ha creato La realtà Il mondo Ha creato le creature Le ha create Consapienza E libertà Accetta poi Le conseguenze Di questa sua creazione Quindi Dici ma il Signore Non prevedeva Che noi avremmo tradito Il Signore Sì prevedeva tutte cose Infatti Gesù Quando è venuto Ha detto Io so che andrò a Gerusalemme Mi faranno soffrire Mi uccideranno Ma questo compirà La volontà di Dio Vedete Questa specie di Cinica O anche Molto pragmatica Molto concreta Situazione di vita Vedete Vi accorgete Che noi stupisce Anche San Pietro Di fronte a questa Dichiarazione di Gesù Io sto andando a Gerusalemme So che là Mi uccideranno Mi faranno soffrire E poi il terzo giorno Risorgerò San Pietro dice No Signore Ma questo non ti deve Perché gli voleva bene E Gesù per risposta Ha detto Mettiti dietro Satana Perché tu mi impedisci Di realizzare La volontà di Dio Quindi sapete Per noi Adattarci a questa Mentalità del Signore Non è che è facile Non è facile Perché noi Scapperemmo Di fronte ai problemi No Li vorremmo evitare I problemi Li vorremmo In qualche maniera Superare Ma affrontarli Per esempio Viverli Passare dentro I problemi Per noi È una prova Però Di fatto Noi dobbiamo Se vogliamo Fare una scelta Di essere cristiani Affidabili Dobbiamo Adattarci A questo A questo modo Di ragionare di Dio A questo modo Di vivere Non di ragionare solo Di vivere di Dio Ecco Lui ha una Benedice La realtà Qualsiasi sia E questa è la realtà Tu cerca di amarli Tu cerca di amare Dice ma io ho problemi Ho nemici Tu cerca di amare Anche i tuoi nemici Vai avanti Secondo Dice ma c'è la croce C'è un tribunale Che mi aspetta Non so Dico Mi viene in mente Padre Pino Puglisi Che già sapeva Che la mafia Brancaccio Da anni Lo voleva ammazzare Però lui diceva Che non era un tipo Eroico Lui Non era Il classico Superman Non era un Rambo Non era un supereroe Era una persona Molto modesta Così Normale E diceva Ma che devo fare Se dico Se faccio prevalere la paura Vince la mafia Se voglio essere coerente Con il mio sacerdozio Devo andare avanti E nonostante Lui già sapeva E infatti Il suo uccisore Quando lo chiamò E lui stava mettendo la chiave Nella porta E gli puntò la pistola Il suo uccisore Lo dichiarò poi in tribunale Mi sorrise E mi disse Lo sapevo Quindi Il fatto di andare incontro Alla morte Ma perché Noi non andremo incontro Alla morte Poi in fondo Se ci fate caso Non è che dicino Noi evitiamo Sì la possiamo evitare Per qualche anno Ma pure noi Dobbiamo affrontarlo Il giorno in cui Magari Forse non ci punteranno Una pistola Però Sapremo che il medico Magari non lo dice a noi Lo dice alle persone vicine a noi Non passa stanotte E che facciamo Ecco per questo dico La vita ha una sua tragicità Poco fa cantavamo Tu doni E porti via Però nel donare E portare via C'è un progetto Che si realizza Poi questo è il concetto È molto importante Poi dicevamo ieri Le cose piccole Di ogni giorno La quotidianità Anche più banale Che vi posso dire Le cose più semplici Che facciamo Le cose ordinarie Quelle là Che uno s'annoia Pure a farle Sempre le stesse Quelle poi Fatte per amore E facendo emergere La presenza di Dio Perché il segreto È proprio Farle con amore E ricordarsi La memoria Iesu Dulce Memoria Cioè Memoria Tenera Dolce Del fatto che tu sei con me E il fatto di fare le cose Per amore tuo E tu sei con me E condividi la mia vita Semplice Quotidiana Banale Apparentemente banale Questo dà Il terreno Della santità Ecco La santità Non è fatta Di eroismi O perlomeno Per fare Eventualmente Cose eroiche Bisogna prima Imparare a fare Cose normali Chi si impappina Nelle cose normali O si annoia O si stufa Delle cose normali Di ogni giorno Non arriva poi A essere così forte Se ci dovessero essere Momenti Di grande Sofferenza O di grande eroismo Quindi il fatto che Ogni giorno Il quotidiano Ci consente Di coltivare Di respirare La presenza di Dio Dico respirare Perché questo lo diceva Lo affermava Sant'Antonio Abbate Ecco Bisogna Imparare a respirare La volontà di Dio Respirare la volontà di Dio Ogni giorno Condividere con Lui Gioie e dolori Valorizzare anche Le cose più semplici Fare con amore Anche quando uno Lava un bicchiere Anche quando uno Spazza la casa Anche quando Valorizzare la vita Vedete Questo per esempio Certe volte noi Non ci badiamo Che Noi diamo valore Alla vita Oppure Svalutiamo la vita Ecco Se noi non diamo Valore alla vita Alle persone In effetti La vita si impoverisce Ma Se noi diamo valore Anche a un bicchiere d'acqua Gesù ha detto Guardate Che anche un bicchiere d'acqua Dato Per amore Soprattutto Lui dice Per amore mio Perché certe volte Questo non perché Il Signore È Teocentrico No No non è questo È che tante volte Noi non abbiamo Ragioni umane Per esempio Se il nostro nemico O una persona Che ci ha fatto del male Ci dovesse chiedere Un bicchiere D'acqua O dovesse avere Una difficoltà Mettete che un vicino Di casa Che vi ha fatto Sempre i chiodi Che vi ha sempre Disturbato Che Ha protestato sempre Che vi ha reso La vita Difficile A un certo punto Si trovasse in una difficoltà E vi chiedesse aiuto Cioè Verrebbe La voglia di dire Dove ti sei fatto L'estate E' fatto l'inverno Ecco Però Siccome uno Per amore del Signore C'è queste cose Non ci sono ragioni umane Ma ci sono ragioni divine Ecco Non ho ragioni umane Perché non è che posso fare finta Che quella persona È cattiva Che non è cattiva Perché se è cattiva Guardate vedete La verità è sempre Necessaria Cioè se una persona È cattiva E mi ha fatto del male Non posso per buonismo Dice ma in fondo È buona No Se è cattiva È cattiva Se fa schifo Fa schifo Però una persona Deve dire Fa schifo Si meriterebbe Un pugno In faccia Ma siccome Io sono Al servizio di Dio Per amore di Dio Non solo gli do Un bicchiere d'acqua Ma gli chiedo pure Se ha bisogno altro È chiaro Cioè non è Non è che il Signore ci chiede Di dire Va bene Che ha avuto Ha avuto Ha avuto Che ha dato Ha dato Ha dato Scrutammi Ci ho passato Si mi Napoli E vai Non è questo Non è che Dio Se una persona si è comportata male Si è comportata male Se mi ha fatto una cattiveria Mi ha fatto una cattiveria Solo che io Ho una ragione In più Delle mie cose Delle mie ragioni Cioè il fatto Che ho fatto Ho scelto Di seguire La carità di Gesù Allora Per amore di Dio Io mi umilio Come Gesù Si è umiliato Per esempio Di fronte agli sputi No Gesù L'ha fatto Non perché noi Ci meretevamo Questo suo sacrificio Ma perché Dio padre A cui lui Non ha negato mai niente Giovanni 8 29 Disse Gesù Io faccio sempre Quello che vuole Il padre mio Che è una frase Guardate Di una Importanza Credo Fondamentale Gesù L'uomo perfetto Davanti a tutti Disse Io faccio Sempre Quello che piace A Dio A mio padre E quindi Anche se La cosa Dovesse andare Contro di me O mi dovesse Costare la vita Io faccio sempre Quello che piace A lui Cioè L'amore del padre È un assoluto I problemi umani Sono un fatto relativo Ma Distinguere sempre Tra quello che vuole Dio E le ragioni umane Questo è molto importante Perché se io scelgo Di seguire lui Devo poi cercare Di essere Coerente Con questa scelta È giusto Non è che dico Signore Io nel padre nostro Noi alziamo le braccia Sia fatta la tua volontà Come in cielo E cose interne Lo diciamo con una disinvoltura Se ci fate caso Così Ma sta disinvoltura Però non vuol dire Che poi mi scordo Poi quando si tratta Di fare la volontà di Dio Che costa Devo ricordarmi Che dieci minuti prima Ho detto il padre nostro Che dite Altrimenti diciamo una cosa E poi ne facciamo un'altra No Siamo qui In questi tre giorni Per riflettere Sulla credibilità Della nostra fede Di diventare Non solo credenti Ma credibili E affidabili Ecco Questo è molto importante E costa tanto Avere questa Questa situazione Quindi I dettagli Nascosti Nella vita quotidiana Sono una palestra Che ci fortifica Questo Non c'è scritto nel libro Questa è una deduzione Di tante pagine Ecco perché Giustamente Il libro poi Chi se lo vuole Se lo legge Però a me interessa Avere un concetto Perché anche chi Che non si legge il libro Possa avere un concetto Fondamentale Giusto Ecco I dettagli Nascosti Nella vita quotidiana Banale Apparentemente banale Sono una palestra Che ci fortifica Ecco Per il Per creare Il mondo In cui Dio Vuole Che noi collaboriamo Perché noi stiamo creando Mentre noi viviamo qua Noi stiamo creando Il regno dei cieli Come collaboratori di Gesù Quindi noi dobbiamo pensare Che mentre viviamo qui Sulla terra Contemporaneamente I sacramenti Ci danno Anche una vita divina Questo Teniamolo presente Il fatto che noi viviamo Da uomini Immersi nei problemi umani Anche scabrosi Anche dolorosi Anche schifosi Ecco Però contemporaneamente Con i sacramenti Il Signore Ci dà La vita di Dio Noi ci siamo nutriti Della vita di Dio Ieri sera Siamo stati battezzati Nella vita divina E quindi Mentre viviamo La vita che passa L'amore Con cui Viviamo Soffriamo Gioiamo Sta collaborando Per realizzare La vita eterna Poi Passerà Questo mondo Ma la vita eterna Resta Ci siamo Quindi in contemporanea Mentre noi siamo qui In contemporanea Noi stiamo vivendo La vita divina Perché portiamo Dio dentro Quindi convergono La natura umana La storia umana E la vita di Dio Dentro di noi Con i sacramenti Quindi mentre noi viviamo C'è un osmosio Una trasmissione Tra quello che facciamo Oggi E la vita eterna Ogni atto D'amore Ogni cosa Compatibile Con l'amore di Dio Rifluisce Nella Possiamo dire Nella costruzione Del regno Quindi passa Solo la carità Le altre cose Non passano Ecco mettete Che ci sia Un filtro Tra un 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 serbatoio E un altro Serbatoio Passa solo L'acqua pura Della carità Ecco c'è un filtro Per cui Filtra Dall'altra parte Tutto L'amore Quello che non è amore Rimane Da questa parte umana Ci siamo? Quindi Se io per esempio In questo momento Vivo Un vero amore Verso di voi Al di là di quello che dico Di quello che faccio Quello che sto facendo per ora Contribuisce All'edificazione del regno Quando morirò Le cose che Umane Restano L'amore con cui sto vivendo Quello filtra già là E' già eternità Ci siamo su per giù Ecco questo è importante Perché certe volte Le persone dicono E che ci campo a fare? Come che ci campo a fare? Non ti preoccupare Dici ma Mio nonno E non so Vive da Come Come un vegetale Mio nonno vive come un vegetale Però Non sai come Dio Sta utilizzando La sua vita In questo momento E' in vita Gli hai dato l'olio santo Il sagramento E' battezzato Bene Il signore sta utilizzando La sua vita Quello che passa nel suo cuore Che non lo sa nessuno Ma anche i medici lo sanno Perché sapete Certe volte Non è che i medici Possono valutare Se un malato terminale Una persona in stato vegetativo Fino a che punto capisce Fino a che punto non capisce Fino a che punto Dico anche se fosse il caso peggiore Che è tipo in coma Ma nella sua anima Tu non puoi valutare Come sta agendo lo spirito santo Può essere pure Che in questo momento Per portarselo poi in paradiso Il signore lo sta purificando Il signore lo sta purificando Dai suoi stessi peccati Ma non è che va Vi sto dicendo una cosa Non la invento La rivelazione La dottrina nostra Cioè quando tu vedi Un malato Terminare Non è che tu sai Spirito santo Come sta agendo Tu gli dai i sacramenti Poi il signore sta agendo Lui per il suo bene Dio è amore E se sta utilizzando Quel tempo Per poter salvare E santificare Quella persona E' tutto guadagnato Sapete Invece di farsi il purgatorio Poi si sta preparando ora Quindi è una grazia di Dio Lascia stare Tu collabora Con la realtà Per questo vi dicevo Un rispetto enorme Per la realtà Che ne so io Anche quella persona Che sta facendo del male Come Dio lo vuole salvare Può darsi che nel futuro Lui il signore lo salva Come vi ricordo Il buon ladrone Era un delinquente E magari le persone Che lo conoscevano Nel paese O nel paese vicino Come delinquente Dicevano Eh hanno fatto bene Che lui stesso Lo disse all'altro ladrone Vi ricordate Che protestava L'ha detto Noi siamo qui sulla croce Perché ce lo meritiamo Ma quest'uomo Non ha fatto niente Quindi lo riconosceva Gesù Come innocente E oltre che come innocente Gli ha detto Ricordati di me Quando sei nel tuo regno Quindi lo riconosceva Come re Sapete Non si improvvisa Una cosa del genere Evidentemente Ha avuto Qualche cosa Che l'ha fatto intuire O mesi prima Anni prima L'ha sentito parlare A Gesù Che noi sappiamo Lui stava nella folla Non sappiamo Ma come arriva A riconoscere In Gesù Crucifisso Nudo Lì come un Come un Come un Disgraziato Come una persona fallita Invece dice Ricordati di me Quando sarai nel tuo regno E infatti La risposta di Gesù Lo conferma Oggi stesso Sarai con me In paradiso Ed è indicativo Il fatto Che il primo santo Canonizzato È un delinquente Il primo santo Canonizzato È un delinquente Dio stesso L'ha canonizzato Oggi stesso Sarai con me In paradiso Sono cose Sorprendenti Perché quando noi Vogliamo seguire Dio In Gesù Cristo Noi dobbiamo capire Come ragiona Dio Come valuta le cose Dio Come le vede Dio Perché altrimenti Chi seguiamo? Perché vedete Quando noi Seguiamo Il cristianesimo Ma con la mentalità Umana Certo che poi Non siamo credibili Perché Gesù Lo disse Se questo sale Perdesse il sapore Non ha identità Serve solo per essere Calpestato Cioè noi Come ragioniamo Come impostiamo La vita Come gioiamo Come soffriamo Noi siamo Un segno Diverso Da quell'andazzo comune Perché Il mondo Cammina Secondo le logiche umane Noi Vivendo nella società Camminiamo Secondo le logiche Di Dio Quindi la gente dice Ma questo Per chi ragiona così? Cioè se noi Ci conformiamo All'andazzo comune Noi in fondo Non incidiamo proprio Positivamente Nella società Scusate Se l'unica differenza Tra noi E chi Non viene in chiesa E il fatto che noi La domenica Andiamo C'è quartitore In chiesa E poi per il resto Siamo uguali agli altri Scusate La gente In fondo Come si deve convertire Dice Ma quello è come me In fondo Cioè solo Che fa un piccolo sacrificio Che la domenica Assolve A una specie di Precetto Ecco Ma al di là Di quel precetto Poi abbiamo Lo stesso stile di vita Invece Come sto cercando Di sottolineare Per voi Per me È che il modo Di vedere il mondo Il modo di vedere Le persone Il modo di fare le scelte Il modo di Di affrontare la vita È diverso da te Cioè nello stesso ufficio Il mio stile di vita Anche se non parlo È diverso dal tuo Il modo di trattare le persone Il modo di soffrire Il modo di gioire Il modo di affrontare la vita Di gestire la vita È conforme A quello che Gesù Mi ha rivelato E mi chiede di fare Ho fatto una scelta Che non è Come quella tua Ma non perché Ti voglio umiliare Ma perché è diversa Poi ognuno fa le sue scelte Il Signore Non aiuta Non ci aiuta Quando immaginiamo Una cosa Cioè io mi immagino E dico Allora Mettete che io facesse E se mi venisse Un cancro Come per esempio È venuto a un amico mio Come mi comporterei io Questo è un Sapete Questo è un ragionamento Un modo di ragionare Che non è consigliabile Manco cristianamente Perché io Non posso Immaginarmi Le scene E mettermi Nei panni Di un altro Quando quello È chiamato A quella A quella A quella A quella esperienza E io non lo so Se mi chiamo A quell'esperienza Perché il Signore La grazia La dà Non quando ci immaginiamo Una cosa Ma quando la viviamo Non è che Mi posso dire E se mi trovassi Sull'Everest Per ora Io sarei capace Il Signore dice Ma che Tu cerca di essere Con i piedi per terra Tu sia All'Ariano Irpino Qua Che fra l'altro Non pare Manca Ariano Irpino Perché pare A Sicilia Perché c'è caldo Di fatto Quindi ti trovi qua Gestisci le cose così Quando dovessi Trovarti Sull'Everest Ecco Io ti darei La grazia Di stare Sull'Everest Poi Vedete Il Signore Pare strano Ma la mistica Cristiana Non è ideologica Fatta di idee Di ipotesi Di cose Queste sono le tentazioni Sapete Una caratteristica Delle tentazioni È quella Di farti immaginare Qualche cosa Che ti affascina Tu immaginati Allora Metti che tu hai guai Con tua moglie Allora tu dici Ti immaginati Se trovi una donna Più bella di tua moglie Oppure Immaginati Che hai problemi Con tuo marito E dici Se trovassi Un ragazzo Affascinante Buono Bellissimo Non sarebbe bello E che È una tentazione Perché Perché Come vuol dire Ti fanno volare Ti fanno volare Ecco Come quando Il demonio Disse a Eva Immaginati Se tu Ti mangiassi Questo frutto Quanto sarebbe bello Così E non dare conto Al signore Che ti ha detto Ti fa male Ma tu Immaginalo Però Però sognare è bello Sì Allora Sognare Sognare è bello Ma pericoloso Ma pericoloso Ecco Soprattutto se uno Porta macchina È pericolosissimo Se uno Deve lavorare Poi Invece di Ecco Tu la sai Quella barzelletta Lì Quello Fischiava in ufficio Fischiava Allora Il capo Il capo ufficio Gli ha detto Eh Durante il lavoro Non si deve fischiare Ma io non sto lavorando Sto solo fischiando Ora per dirti Sì Sognare è bello Per carità È anche utile a volte Però nel momento giusto È giusto Nel momento in cui Io ho necessità Di sognare Perché devo Per esempio Ipotizzare Perché tante volte Il sogno Può servire Un po' Intanto I sogni di San Giuseppe Sono stati utili Perché erano Possiamo dire Carichi Della comunicazione Di Dio Quindi Dio Si è servito Dei sogni Ma quelli Erano sogni A occhi chiusi Tu parlavi Dei sogni A occhi aperti Che si fanno Ora dico Certe volte I sogni A occhi aperti Possono essere utili Per darci Delle prospettive Che non ci sono In questo momento Dico Io Faccio Faccio un esempio Mi è utile Cercare di immaginarmi Di sognare Perché mi hanno Eletto sindaco Non so Come fare Per esempio Per gestire Delle situazioni Però sogno Come vorrei La città Allora Devo prendere Quel sogno Come uno spunto Per poi adeguare Le mie scelte A quel sogno Di città Mi avvicinerò Quindi Sognare Non è una cosa Possiamo dire Sempre negativa Però il problema Quando è Che se per esempio Io invece Poi di fare le scelte Che faccio Che faccio il sindaco Faccio sempre sogni 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 In realtà Non cambia poi niente Quindi il problema È come gestire i sogni È giusto Quando una donna È incinta Per nove mesi Sogna Nascerà un figlio Chissà come sarà Prima c'era L'ansia E maschio E femmina Ecco Vi ricordate Che tutti A un certo punto Non si sapeva Quale colore Ma ora Al quarto mese Già vi dicono Il colore è azzurro Basta Ecco così Per dirvi Ma di fatto Bisogna Calibrare Sempre i sogni Le esigenze Poi a quello Che Dio Concretamente Mi chiede di fare Quindi poi i sogni Devono essere Al servizio Della carità Allora Se sono al servizio Poi della carità Vedete La carità Ha questa caratteristica La carità È una realtà Universale Che è fonte di vita Perché noi Siamo frutto Della carità Di Dio Quindi se mettiamo Per esempio Al servizio Della carità Anche un sogno Ecco Pure Ferrari Aveva il sogno Di fare le macchine Migliori del mondo In effetti Se avevamo a Ferrari E già Perché c'è quel sogno Perché se non Avesse avuto il sogno Noi non avremmo avuto Così E poi Il suo Amico nemico Lamborghini Sognava di fare Macchine migliori Di Ferrari Perché poi Se sono contropigliate Voi lo sapete No la sapete La storia Ma devo insegnare Quella storia Lamborghini era In due minuti Tanto per ridere Era un vicino Di territorio Di Enzo Ferrari Enzo Ferrari Era narcisista Al 2000 per 1000 Non era una cosa facile Come si vede Dalle Figuratevi che Lui ha detto Che bisogna fare 499 macchine 499 macchine Di un modello Perché il 500esimo Gli deve restare qua La deve desiderare E non comprarla Voi vedete Che è un narcisismo A che punto Però Il signore Ci ha fatto così Lui era un imprenditore Che faceva trattori Ed era un cliente Di Ferrari Comprò una macchina Della Ferrari Aveva un difetto Perché pure queste macchine Hanno dei difetti Aveva una frizione Sottodimensionata Rispetto al motore Quindi A un certo punto Sta macchina potentissima Sta frizione Spesso si Si bloccava Allora Nella sua Fabbrica Di trattori Ha fatto mettere Una frizione Più grossa E Ha aggiustato Sta macchina Allora Lui tutto orgoglioso Visto che era cliente Va da Enzo Ferrari Chiede un appuntamento E dice Guarda Dice io sono un tuo cliente Come tu sai Dice però Sono riuscito A togliere un difetto Alla tua macchina Chi ne ha appena sentito Un difetto Divento una bestia Allora Gli ha spiegato Guarda Io il mio meccanico Ci siamo messi Abbiamo messo Sta frizione Ora la macchina Va benissimo È potentissima Sto apposto La puoi adottare Nella tua No Che lui ci disse Ci disse Tu sei cosa Dei fare il trattore Dice No Tu Non ti devi fare vedere Da me E non ti puoi permettere Di criticare le mie macchine Terribile Dice che tornò a casa Questo lo raccontò poi Suo figlio Dice Tornò a casa Che quel giorno Non mangiò Disse Io devo fare una fabbrica Che è migliore Di Ferrari E infatti Le Lamborghini Sono ancora più alto livello Per dirvi Questi siamo nel campo C'è qua La volontà di Dio Sapete La volontà di Dio Sapete È al di là Di questi difetti Di queste cose Perché poi Dio valorizza Le intelligenze Anche al di là Dei difetti E dei limiti Che hanno le persone Per cui il Signore Valorizza Poi Sapete Queste sono posti di lavoro Fabbriche Che danno posti di lavoro Anche prestigiosi Quindi sono un bene sociale Pure anche In questo senso Però vedete Il Signore valorizza Tutti Al di là Al di là dei limiti E dei difetti Perché poi Il Signore È una persona Che valorizza Sempre le persone Ed è molto concreto E allora Vi dicevo Dobbiamo Tenere conto Che il cristianesimo Ha sempre I piedi per terra Non si fa mai niente Che non valorizzi La realtà Anche le cose Più brutte Anche i terremoti Per esempio Dio permette Un terremoto Devastante Come quello Dell'Irpinia Nell'ottanta Perché si ricostruisca Poi tutto Meglio Perché il Signore Trae sempre Il bene Dal male Ed è una È una mentalità Di Dio Dio non permette Mai Anche alla natura Di fare un danno O un problema Se non Perché in futuro Il Signore Vuole creare Cose migliori Non permette Mai Una situazione Negativa Se non Per una Rinascita È sempre così È stato così Per esempio Anche nel dopo guerra Sapete La guerra è stata Terribile La seconda guerra mondiale Quanti milioni Di morti Ci sono stati Però vedete La lezione È grossa Che ora Dopo 80 anni Ci siamo scordati Ecco Ma per 80 anni Dopo L'Europa Dopo La La guerra mondiale Ha vissuto Una rinascita Sociale Economica Politica Che era Non c'era mai stata In Europa Così Ecco Vedete che Dal 45 Fino si può dire All'anno scorso Fino a qualche anno fa L'Europa Ha trainato Il mondo Dal punto di vista Della Della Tecnica Scienza Cultura Politica Anche l'Europa Unita Per esempio È stata Per l'umanità Una cosa importante Perché Perché mai si era visto Nella storia Che stati indipendenti Proprio nazioni Completamente diverse Potessero creare Una zona Dell'Europa Un continente Dove ci fosse Per esempio Questa comunione Economica Sapete Lo stesso fatto Che tu puoi andare In Germania In Francia Senza passare Per la dogana Utilizzando La stessa moneta È la prima volta Nella storia Non succo Se da niente E il fatto Che per esempio Tante nazioni Vogliono entrare Proprio È importante Noi certe volte Ci siamo abituati All'idea Con tutti i limiti Che ha l'Europa Perché è gestita Certe volte Anche in maniera Ancora maldestra Per carità Non è che voglio dire I limiti ci sono Però Gli effetti positivi Dell'Europa Noi Se non ci fosse stata L'Europa Vedete Noi non avremmo avuto Anche in Italia Uno sviluppo Adeguato Per questo Quando parla Mattarella Quando parla Anche Draghi Sono persone competenti Al di là Delle opinioni politiche Ma sapete Gente che ne capisce Assai Sono situazioni In cui Noi abbiamo fatto fare Un passo avanti All'umanità Ecco Poi come sempre La realtà È anche Diciamo Ambigua Ambigua Che significa Ci sono sempre Grano E zizzane Ecco Questo per esempio Ne dobbiamo pure Rendere conto E tenerne conto Il fatto che non esiste Sulla terra Una situazione Solo positiva O solo negativa In ogni situazione C'è sempre Un lato positivo E un lato negativo Con cui fare i conti Bisogna avere Quale prevale Ecco Bisogna Non solo avere Quale prevale Ma anche per esempio Come l'intuizione Che ha avuto Don Bosco Che anche In ragazzi Delinquenti Vi ricordo Che Don Bosco È il metodo Preventivo Di Don Bosco Che funzionò Perfettamente Nel 1800 Era questo Anche un ragazzo Delinquente Che gli altri Dicevano Non c'è niente Da prendere Lui si sforzava Di vedere Di conoscere bene Quei ragazzi E di trovare Un lato positivo Da cui entrare Nel loro cuore Guardate che intuizione Lui diceva Questo ragazzo È delinquente È vero È di strada È vero Ha avuto tanti problemi Ha tanti problemi Crea tanti problemi Ma ce l'ha Un lato positivo Ce l'ha Una Una Porticina Possibile Positiva Da cui entrare Nella sua vita Allora intuiva Per esempio Mentre li vedeva giocare Intuiva Una Debolezza Positiva Come vuol dire Ha il debole Per esempio Per l'amicizia Allora si faceva amico Ecco Per esempio Quando un ragazzo Terribile Che creava problemi A un certo punto Tutti i suoi collaboratori Di San Giovanni Bosco Si lamentavano Questo ragazzo Non può stare con noi Perché crea problemi Non fa studiare gli altri Fa da cattivo esempio A un certo punto Don Bosco Lo chiamò Cominciò a parlare Così 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 Sai Si lamentano tutti di te Così Ah sì Tutti fanno schifo Tutte le soldi Lamentele Allora lui ha detto Ma tu ce l'hai Un desiderio Sì Gli ha detto Io non voglio studiare Però mi piace la musica Ci si aspetta qua Si è andato A Al Monte di Pegni A impegnare il cappotto Lui D'inverno A Torino Ed è tornato Con un'armonica Pensate Ma non è che ha fatto passare Non gli ha detto domani Perché sapete Là Si tratta di Di battere il ferro Quando è caldo Gli ha detto Aspetta qua dentro È uscito È tornato con un'armonica E gli ha detto Qua c'è un'armonica Fai quello Che devi fare Ma almeno questa cosa La devi fare Perché me l'hai detto tu E quello è diventato Sapete Un grande compositore Poi diventò sacerdote E collaboratore Di Don Bosco Ma queste cose Perché Perché Lui diceva In ognuno di noi C'è sempre Un lato Un aspetto Positivo Se voi ci fate caso Noi non abbiamo Questo tipo di Arguzia Se una persona Per esempio Ha Dei difetti gravi Noi diciamo Quella persona Non serve Fateci caso Noi siamo tentati Di dire Siccome Per esempio È fastidioso Siccome Ha questo problema Siccome Mi crea questo problema Questa persona È da evitare San Giovanni Bosco Per esempio Non era d'accordo Su questo San Giovanni Diceva Hai scoperto Qual è il lato positivo Di quella persona Se tu l'hai scoperto Agisci sul positivo Poi Una volta che entri Nel positivo E te lo fai amico Nel positivo Poi lo puoi aiutare Da amico Dall'interno Guardate È un'intuizione Che è stata Fino ad oggi Una delle cose Più belle Della pedagogia Come tanti pedagoghi Hanno insegnato Ecco Questo Per esempio Rientra perfettamente Nel piano di Dio Allora Quando tutto Ci è contro Nel libro Ci è scritto Proprio quando Tutto C'è contro Perché la vita Ci spoglia di tutto Perché in effetti Anche questo aspetto Dobbiamo calcolare Vedete Che è previsto Che nella vita Umana A poco a poco La vita Ci spogli Di tutto Voi vedete Chi ha figli Viene spogliato Dei figli Chi ha coniugi A un certo punto O per morto O per altri motivi Viene spogliato Del coniugi Poi viene spogliato Della giovinezza Poi la fisicità Gli acciacchi Dell'anzianità Si ci arriva Se non sono le malattie E la vecchiaia A poco a poco La vita ci porterà Via tutto Ora Questo è una cosa Terribile Però non si può Non la possiamo frenare Perché la vita è così Ci spoglia di tutto Voi vedete Anche Benedetto XVI È stato Un grande mente Un uomo di grande carità Ha fatto sacrifici Per gli altri Si è interessato Del bene di tutti Ha servito Dio Tutte cose Ma alla fine Era diventato Spogliato di tutto Magro magro Piccolo piccolo Dice ma è la grazia Di arrivare a 95 anni Ma arrivare a 95 anni E fate cosa Ecco uno ci augura Di campare cent'anni Però Però è un augurio Che costa assai Ecco di fatto Alla fine Alla fine Non resta niente Infatti Dicevano Non so se è vero Dicevano il suo segretario Che le ultime parole Prima di entrare in coma Ora che è morto Ha detto Gesù ti amo Gli restò solo Gesù Ora vedete Ci dobbiamo abituare Nel libro Non viene approfondito questo Però secondo me Ognuno di noi Poi deve elaborare Sto fatto Mi devo preparare Che la vita Mi spogli di tutto Perché Chi di voi ha perso un figlio Il calogero ha perso un figlio A 16 anni E spogliare Cioè a un certo punto Ha perso la moglie È viva Ma Non ha moglie Nel senso che È meglio non averla In certi aspetti Certe cose Perché non per No attenzione Lo sto dicendo Perché lui l'ha detto pubblicamente Altrimenti Non mi permetterei Però per dirvi un esempio Cioè certe volte Certe volte E una persona Viene spogliata Del conuge E ritiene Che quello spogliamento È il male minore Perché se no era peggio Perché ci sono situazioni Invivibili Ecco In situazioni invivibili In cui una persona dice Guardi Malgrado io Abbia tutta la volontà Però è impossibile È impossibile E quindi una persona Non ci può stare Ora vedete Una persona Si spoglia di questo Si spoglia di quello Poi a un certo punto Il figlio più grande E giustamente fai le sue scelte E si spoglia pure Del figlio più grande Perché non si fai le sue scelte Eh ma uno Si spoglia di tutto La vita ci spoglia Che cosa non ci può togliere Giustamente Romani 8-28 Solo Gesù Cristo Mi resta nel cuore Non ho niente Infatti C'è una frase bella Che lui dice nel libro A un certo punto Ci troviamo Nudi Senza niente Davanti a Gesù solo Perché in effetti Anche quando poi Moriremo Ci vestiranno Ci spoglieranno Anzi Una volta Mi sono trovato In una situazione In cui Era morta Una persona Mi dissero Dobbiamo lavare il morto Perché cosa si usa Che si lava il morto E io Vestito qui Labbiamo di cose Laviamo questo morto Spogliamo questo morto Insaponare Né quella persona Né io Non ne sapevamo niente Ci misero tanto sapone Che c'era tutto Sapunata Tutto il banno Va a pigliare l'acqua Che poi lo porti in bagno Io lo tenevo Lo lavavo Ma una cosa Guardate una scena Felliniana Proprio Si poteva fare un film Che Che ancora Oggi Il sapone Con cui l'abbiamo lavato Appena sento Due odori Dopo tanti anni Dove ero a Napoli No no Era a Corleone No 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 Dico No a Napoli Invece c'è un'altra cosa I morti li mettono Nel loro letto Dove dormono Con Con il pigiama Da noi non si usa Il pigiama Come se dormisse La prima volta Che andavo Da un morto Con il pigiama Tu vedi Muore una signora Tu la trovi A letto Dove dormiva Nel suo posto Del lato Con il pigiama Qua Come se dormisse Invece da noi Si mette nel catafalco No da noi Si mettono Le scarpe nuove Non usate Da noi si usa Che le scarpe Devono essere nuove Però là In quella situazione Dopo che ho visto Abbiamo fatto Abbiamo fatto Le preghiere per la morte Vedete Tragico E comico Certe volte Si intrecciano Per cui Mi è stato detto Eravamo in due Dice ora Lo dobbiamo lavare E dice Lavamolo Io pensavo Che si pigliava Una pezza No Dice lo spogliamo Lo insaboniamo E lo laviamo Ma c'era Guardate Alla fine C'era tutto Acqua A terra Tutte cose così Tutto bagnato Comunque alla fine L'abbiamo asciugato Così E rivestirlo Con l'acqua calda No Chi non ci interessava E più l'acqua calda A doccia fredda Ormai era Per dirti Ma lo dico Perché certe volte Vedete In effetti Vi accorgete Che certe volte Bisogna avere Un senso dell'umor Forte Anche quando ci sono cose sagge Perché se no Veramente Perché Veramente si ride Certe volte In quel momento Non potevamo ridere Però nel mio cuore Diceva Ma sta scena è comica Che ho a tenere Sto morto Mi so così Che lo lavavano E' impressionante Va bene No no Era morto da poco Quindi No No ancora Non era Non era in pulsefazione E' stato E' stato Dieci minuti Cinque minuti Dopo che è morto Quindi Prima che venissero Le bompe fune Prima che venissero Le bompe Va bene A parte questo qua Però Questa è una nota di colore Però Diciamo E' una cosa Psicologica Perché E' macra Però E' un fatto nostro Umano Psicologico Perché Fra un giorno Solo mangiano i verme Quindi che la va a fare Comunque Ragazzi Parece che vai D'altronde Certe volte Bisogna adattarsi Agli usi del luogo No Dico Alle volte Bisogna adattarsi Perché se no Le persone si scandalizzano Perché se là In quel luogo Si usa una cosa del genere Tu gli dici no Pare che in effetti Non hai il rispetto del morto Ma capisci Allora vi dicevo Anche quando La vita ci dovesse spogliare Di tutto Che dovessimo arrivare Al punto Ecco Così Che Fra vent'anni Ci troviamo In un ospizio Per anziani Diciamo E vabbè Dico Ecco A un certo punto Il fatto per esempio Di vivere bene Anche se Le condizioni di vita Ci portano Per esempio Essere in un istituto Per anziani O a casa Così Il fatto per esempio Di dare testimonianza Dell'amore di Dio Anche in quel luogo Noi ci dobbiamo Tenere Tenere conto Di sto fatto Perché una persona Dove si trova In qualsiasi posto Si trova Deve avere la carità E deve avere Anche una carità Sorridente Ma non finta Deve essere una scelta profonda Il fatto di dire Signore In ogni luogo Tu sei presente In ogni situazione Tu sei presente Eri presente Quando ero giovane Sei presente Ora che sono anziano Con tutte le conseguenze Dell'anzianità Non è che Da giovane Mi santifico E da anziano Poi mi devo dannare O devo dare cattivo esempio Sia nella salute Che nella malattia Io devo avere Quella cognizione Quella memoria Che tu sei qui E valorizzi Anche le mie situazioni Sapete Tutte le volte Che come sacerdote Sono andato in un luogo O ospedale O case per anziani O anche solitudine Perché tante volte Sapete Nelle campagne Da noi le campagne Sono abitate Non sono come In tanti luoghi Che c'è La gente ha la campagna E poi torna a dormire A casa Nelle nostre Dai Nebrodi Le persone hanno Luogo Nella campagna Abitano nella campagna Per cui Tante volte Mi sono trovato Persone a 85 anni Da sole I figli lontane Da soli Anzi Mi ricordo Una signora Una brava signora Così Che poverina Viveva con una pensione minima E d'inverno Già alle 4 4 e mezzo Lei teneva Spenta la luce Si metteva dietro la finestra La trovavo sempre dietro la finestra D'inverno Sapete Sola In campagna Ecco Solo un'altra vicina di casa Lontana Mezzo chilometro Da lei Ogni giorno Quella signora Che ora è morta Questa signora L'andava a trovare E gli diceva Come stava Che erano mezzi parenti Quindi pensate E i suoi figli Erano lontani Ma era una persona Molto mite E quando telefonavano i figli Le figlie Lei aveva tante patologie Sapete Lei si Ero stato presente io Si Faceva una voce allegra Perché poi Quando chiudeva il telefono Diceva Diceva Mi diceva Non è che ci posso dare altri pensieri A mia figlia Perché mia figlia ha altri figli Poi ha un marito un po' delicato Un po' Così Dice Ha i suoi pensieri Vedete Vi accorgete Certo Questo significa maturità Che lei viveva la sua realtà Era morto suo marito I figli erano tutti lontani Però lei Mai l'ho trovata disperata Mai Era contenta Quando ci andava Anzi mi diceva sempre Di andarci più spesso Perché giustamente Le faceva piacere Che? Ecco Una delle poche Sì Perché poi c'era qualche parente Qualche cosa Che ogni tanto passavano di là Ma siamo Vedete Altre persone Si sarebbero disperate Perché non caricava No No E altre persone Avrebbero approfittato Dei figli lontani Per lamentarsi Con i figli Perché sapete Quanto è un incontro Che poi fanno sentire In colpa i figli Io tante volte Ho sentito parole così Mi avete lasciato sola Ma lo avete lasciato solo E i figli si sentono in colpa Sapete Far sentire in colpa Agli altri È sempre una cosa Che non è volontà di Dio Far sentire in colpa Agli altri Perché poi tu che ne sai Non è che cattiva volontà A volte sono problemi gravi Per questo vi dicevo La spiritualità Se si vuole vivere Si deve vivere Valorizzando La situazione In cui stiamo vivendo Valorizzando Quello che uno sta vivendo Con i piedi per terra Diciamo Io sono qua Santifico Quello che ho Mi accontento Di quello che ho E offro quello che ho Tanto sono sicuro Che Dio Trarrà il bene Anche dalle mie croci D'altronde Gesù ci chiede Di saper portare La croce quotidiana Ecco Di valorizzare la vita Per la salvezza Ecco scusate Guardo Ecco adesso Ho finito il mio tempo Poi il resto ve lo dirò Oggi a pomeriggio Che Dio Mi accontento il mio tempo Di valorizzare la vita Oggi Ad vehementi Ci chiede Spergio Di valorizzare la vita